Ciao a tutti da Vittorio, oggi c'è un nuovo video, un nuovo approfondimento del nostro amico Luca in particolare oggi analizza un po' la crisi del calcio italiano e motivi della crisi del calcio in Italia quindi guardiamoci tutti insieme questo video Ciao Vittorio, un caro saluto a te e a tutti gli amici del canale questo fine settimana riprende il campionato di calcio di Serie A che si era fermato per lasciare spazio alla nazionale italiana allenata dal commissario tecnico Roberto Mancini impegnata negli ultimi due confronti validi per la qualificazione alle fasi finali della UEFA Nations League impegni che hanno visto la nostra nazionale vincere sia contro l'Inghilterra che contro l'Ungheria e conquistare il primo posto del girone che è valso la qualificazione alle Final Four che si disputeranno a giugno del 2023 in conferenza e stampa il commissario tecnico si è dichiarato molto soddisfatto dell'impresa compiuta dai suoi ragazzi anche se non può ancora mitigare l'estrema delusione, la cosciente delusione per la recente eliminazione dalla fase finale dei campionati del mondo di calcio che si giocheranno nei mesi di novembre e dicembre del 2022 eliminazione che fa il paio anche con quella della gestione precedente della nazionale allora allenata dal commissario tecnico Ventura che perse gli spareggi così come la nazionale di Roberto Mancini non pote qualificarsi alla fase finale dei campionati del mondo che allora si giocavano nella federazione russa ad onore del vero e apparsale giustificazione dell'allora commissario tecnico che si vide contro stampa, critiche e tifosi va detto che allora la nazionale nel girone di qualificazione pescò la Spagna che sicuramente era un avversario di livello e poi fu eliminata negli spareggi dalla Svezia, formazione contro la quale noi storicamente abbiamo sempre sofferto questa volta la nazionale, anche vincitrice dei recenti campionati europei di calcio aveva un girone, era stata inserita in un girone sicuramente molto più abbordabile ma soprattutto ha perso lo spareggio contro la Macedonia del Nord una nazionale che nel ranking mondiale non occupa una posizione elevatissima e che qualche anno fa scontrarsi con questa nazionale lasciava presagire molto probabilmente più facilmente a una goleada che a una sconfitta la doppia eliminazione consecutiva, ancorché parzialmente mitigata dalla vittoria dell'europeo del 2020 apre sicuramente uno scenario di crisi del nostro calcio che non è più capace di imporsi a livello internazionale Nel passato era successo solamente un'altra volta, nel 1958, che la nostra nazionale non riuscisse a qualificarsi per la fase finale dei campionati del mondo che all'epoca si giocava in Svezia Ad onor di cronaca va anche ricordato che in un'altra occasione la nostra nazionale non partecipò erano i mondiali del 1930, ma allora fu una decisione politica della Federazione Italiana Gioco Calcio in aperto contrasto con la FIFA che aveva assegnato l'organizzazione della fase finale dei campionati del mondo all'Uruguay e non al nostro paese I fattori che sono alla base, che sono all'origine della crisi del calcio nazionale fondamentalmente sono due e che poi in cascata per effetto domino ne aprono degli altri Innanzitutto un fattore organizzativo che affonda le sue radici alle conseguenze dovute alla legge Bosman Per chi non fosse a conoscenza della situazione facciamo un piccolo escursus storico per spiegare di che cosa si tratta Bosman era un giocatore belga che militava nel Liegi ed era a scadenza di contratto e trovò un accordo con il Dunkerque, una squadra francese la quale però si rifiutava di riconoscere qualsiasi indennizzo economico a Liegi per il passaggio del giocatore presso le proprie fila Invece le norme europee all'epoca vigenti della UEFA prevedevano anche il riconoscimento di un indennizzo per le società cedenti ai giocatori a scadenza di contratto Da lì Bosman si rivolse alla Corte di Giustizia europea dall'altra parte della sbarra all'UEFA supportata peraltro da tutte le federazioni dell'Unione L'UEFA si difese dicendo che il riconoscimento di un indennizzo alle società cedenti ancorché di giocatori a scadenza di contratto erano alla base delle strategie economiche e dei bilanci delle società di calcio professionistiche sotto egida UEFA E mettendo il proprio vertetto alla Corte di Giustizia europea non soltanto andò contro l'UEFA salvaguardando il diritto di Bosman ma disse anche che un giocatore a scadenza di contratto non solo non ne andava riconosciuto niente alla società cedente ma poteva accordarsi senza nessun tipo di indennizzo con una futura società a partire da sei mesi prima la scadenza dei contratti Siccome i contratti di calcio scadono il 30 giugno questo vuol dire che un calciatore oggi all'interno dell'Unione europea può sentirsi libero di accordarsi con un'altra squadra a partire dal primo gennaio dell'anno in cui il suo contratto va in scadenza La Lazio in questo fa giurisprudenza attraverso il caso De Frai che si è accordato nel mese di gennaio e febbraio con l'Inter l'anno proprio che il suo contratto andava in scadenza con la Lazio Ma la Corte di Giustizia europea non si fermò solamente lì andò a criticare e a cancellare anche un'altra importante norma della UEFA quella della limitazione dei giocatori stranieri all'interno dei campionati dell'Unione dicendo che questa norma non era applicabile per i giocatori che avessero passaporto europeo in quanto era contrario agli accordi di Roma e quindi ai principi sui quali si fonda l'Unione europea e pertanto sancì la libera circolazione senza alcuna limitazione dei giocatori con passaporto europeo all'interno dei campionati di calcio dell'Unione europea stessa questo ha portato sicuramente a invadere il nostro campionato di giocatori stranieri e siccome la legge Bosman si estende anche ai settori giovanili e anche ai vivai che sono adesso permeati di giocatori con passaporto non italiano questo ha comportato sicuramente una riduzione del bacino d'utenza all'interno del quale può attingere il commissario tecnico per poter fare poi le convocazioni e quindi a poter eventualmente scegliere i giocatori migliori per poter affrontare le competizioni di livello internazionale e poi il secondo fattore è di livello economico che in cascata ne attiva diversi altri come ben sappiamo tutti oggi le società di calcio professionistiche basano i propri guadagni la maggior parte dei propri guadagni dai diritti televisivi che oggi sono squilibrati a livello europeo che vede la Premier League prendere quattro volte quello che guadagna la Serie A italiana tre volte la Bundesliga tedesca e il doppio della Liga spagnola questo impoverimento generalizzato ha portato che cosa? innanzitutto i giocatori migliori a scegliere la Premier League per ovvie ragioni di opportunità in virtù del fatto che le squadre della Premier League anche di seconda e terza fascia sono in grado di offrire contratti molto più ricchi rispetto agli altri campionati e quindi porta un impoverimento proprio di livello tecnico del nostro campionato dove i nostri giovani non si allenano e non giocano più ogni domenica con i giocatori più forti come succedeva negli anni 80 e negli anni 90 ma soprattutto ha portato i presidenti delle società di calcio ad adottare una politica se mi consentite il termine più consumistica e quindi a comprare calciatori già pronti all'uso e non investire più nei settori giovanili non soltanto nelle primavere ma quello che oggi viene a mancare da un punto di vista proprio organizzativo a causa della mancanza di fondi è proprio quella rete capillare di società satelliti che ogni squadra di serie A aveva e che consentiva il monitoraggio a livello comunale, provinciale e regionale quindi a tappeto a livello territoriale e che poi avrebbe portato i migliori, che portava i migliori giovani a giocare poi nelle competizioni nazionali all'interno delle società di club che avevano come prima squadra una squadra di serie A o di serie B oggi tutta questa rete capillare non c'è più e pertanto non crescono più giovani della crisi tecnica abbiamo già parlato la mancanza di qualità che è venuta ad accadere nel nostro campionato dovuta alla mancanza di fondi e al fatto che i giocatori migliori preferiscono andare in altri campionati ha portato anche a un impoverimento tecnico e poi andiamo all'ultimo fattore da un punto di vista tattico perché il grande afflusso di giocatori con passaporto straniero nel nostro campionato ha portato anche a un modo diverso di concepire il calcio oggi il calcio anche nel nostro campionato è molto più atletico, molto più fisico mentre l'Italia è stata da sempre nel suo DNA esportatrice pura di catenacce e contropiede che poi erano due termini obsoleti che non sono più piaciuti e si è parlato di difesa organizzata e di ripartenza due modi diversi di poter chiamare comunque lo stesso concetto di gioco c'è stato in passato qualche altro tentativo per poter cambiare anche la filosofia del nostro calcio a livello nazionale quello fatto da Enrico Sacchi che aveva convinto la federazione anche a interrompere il campionato per consentire lo svolgimento di stage che coinvolgessero tutti i giocatori in orbita nazionale per poter lui spiegare quella che era la filosofia e la sua idea di gioco avvenieristica che era stata portata nel Milan salvo poi ricredersi proprio nel momento in cui è stato chiamato a giocare il campionato del mondo di calcio del 1994 dove si è affidato anche lui nonostante applicasse una tattica di 4-4-2 di fatto ad una difesa organizzata per poi affidarsi all'estro di Roberto Baggi e Roberto Donadoni e poter così poi arrivare fino alla finale che ha perso solamente i calci di rigore e quindi anche lui si è convertito alla difesa organizzata e alla ripartenza ma anche i recenti successi della nostra nazionale pensiamo alla nazionale del 2006 è stata dovuta sicuramente ad un gioco fatto molto molto all'italiana con una difesa molto organizzata, molto solida e con dei contropiede ben organizzati basta ricordare quella famosa telecronaca di Fabio Caressa che parla in semifinale contro la Germania del doppio intervento di Cannavale e poi il contropiede di Gilardino e il gol di Del Piero che sanciva l'apoteosi della nostra nazionale quindi cos'altro dire una crisi sicuramente che in questo momento ci vede perdere l'occasione di poter giocare la fase finale dei campionati del mondo che ci vede perdere sicuramente possi nel ranking mondiale e che dovranno sicuramente essere attuate e trovate delle soluzioni organizzative per poter riportare il nostro calcio a livelli che competono sicuramente a livello organizzativo la Federcalcio in questo può fare molto poco perché non può creare norme locali che vadano in contrasto con quelle dell'UEF e soprattutto con quelle dell'Europa quindi non può fare leggi che siano a danno dei altri giocatori di passaporto non italiano ma che comunque sono appartenenti alla Unione Europea però potrebbe creare per esempio un sistema che tenda a premiare in qualche modo o in maniera economica o attraverso magari a qualche competizione anche di livello internazionale penso ad esempio alla Conferenza League garantendo la partecipazione a quella società che magari nell'edizione della stagione calcistica X faccia esordire il maggior numero di giocatori con passaporto italiano potrebbe essere un'idea altre non me ne vengono in mente magari fatemi sapere le vostre attraverso i commenti e vi ringrazio anche per tutti i commenti che mi avete fatto fino ad oggi di apprezzamento al canale fate le vostre domande sarò lieto di rispondervi sarà il mio compito anche rispondervi vi prego di mettere sempre il like non per me ma per far crescere il canale di Vittorio e vi saluto al prossimo approfondimento se ci sarà il caso e un abbraccio a tutti quanti ciao